Meno di un terzo delle organizzazioni sul territorio nazionale ha inserito il 5G nella strategia di business. Una survey di Accenture ha registrato dati rilevanti per raccontare a tutti gli attori dell'ecosistema l'importanza di superare Talent Pass e cogliere appieno l'opportunità del 5G. Un dato tra tutti, le imprese italiane che hanno investito nel 5G si proietteranno entro un anno verso una crescita di ricavi sei volte superiore a chi non l'ha fatto. Il dato è chiaro e forte. Il beneficio esiste. 3. Le principali evidenze connesse all'opportunità del 5G emersa dalla nostra survey. Prima evidenza, crescita dell'intero ecosistema. Il 5G può innescare un circolo virtuoso e portare direttamente e indirettamente fino a circa 96 miliardi di euro di crescita del PIL italiano entro 2025. 4. Seconda evidenza, accelerazione alla transizione digitale. Le telco possono avere un ruolo di direttore di orchestra della transizione digitale, forti di un patrimonio di piattaforme, di infrastrutture e di connettività, presenza capillare sul territorio e forti della relazione di fiducia con i propri clienti di business. Terza evidenza, competitività sui mercati globali. Il 5G è parte fondamentale del processo di innovazione delle imprese per recuperare competitività sul mercato globale. Il 5G accelera la trasformazione del business delle imprese, integrando cloud computing, intelligenza artificiale, internet of things e quindi creando i presupposti per nuovi modelli operativi e processi, favorendo la crescita dei margini, efficienze operative, sicurezza e governance di dati. Senza dubbio, il gap tra il 5G e la sua implementazione è molto ampio. Ci sono ampi margini di esecuzione. La maturità delle reti pubbliche e i timori connessi alla sicurezza ne stanno ostacolando la messa in opera. Si tratta dunque di un passaggio decisivo e cruciale per l'economia dell'intero sistema Paese, come la survey della nostra Accenture ha evidenziato.